davvero dovete ricordarvi mettervi bene in testa fare una bella polaroid su quella pietra che vi aspetta domani aspetta che ci sia inciso un nome il vostro nome direzione paradiso oggi ragazzi verso il passo paradiso ciao io faccio con carne io faccio con carne Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.